Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Sì, oggi è buonasera perché se faccio bene i calcoli, nonostante qui sia mezzogiorno, dalle vostre parti è più o meno l'ora in cui di solito facciamo la live. Live che tornerà molto presto, vi ricordo che mercoledì ci rivedremo come di consueto in diretta e ci faremo un paio di chiacchiere su quello che è accaduto in questi giorni e quello che potrebbe accadere nel futuro, nel frattempo però non possono mancare i nostri flash update a cui ormai so che vi siete affezionati, mi avete mandato un sacco di feedback positivi, addirittura alcuni di voi vorrebbero ogni tanto per intervallare la lunghezza delle live dei flash update anche quando sarò da voi e ci rifletterò se effettivamente li apprezzate così tanto. Di fatto abbiamo un bel po' di cose da dirci anche in questi giorni perché da una parte abbiamo una price action in forte accelerazione, guardate i movimenti degli ultimi giorni come appunto stanno accelerando, andiamo a dare un po' un'occhiata a come è messa la situazione e soprattutto visto che il settimanale in questione se chiude col brio che sembra voler dimostrare potrebbe cambiare la struttura di breve e quindi andare nella direzione dell'attacco dei massimi locali e quindi insomma è un periodo molto positivo da questo punto di vista ed è anche a dire la verità positivo da un punto di vista delle notizie perché in questi giorni ci sono state una serie di notizie importanti tutte assolutamente positive proprio per il mercato bitcoin e cripto. Prima di iniziare come di consueto io vi ricordo di lasciare un bel like per dire che siete gasati e soprattutto siete gasati per il futuro che ci aspetta nei prossimi mesi sulle cripto e che siete ancora qui sul pezzo. Come sempre iscrivetevi al mio canale se volete rimanere aggiornati con tutto quello che c'è da sapere con un nuovo contenuto ogni giorno. Oltre al discorso della price action parleremo delle novità lato Binance novità una positiva perché sono ritornati i bonifici SEPA una in me negativa perché la Binance Card verrà dismessa per noi utenti europei a fine dicembre, a metà dicembre in realtà e quindi andiamo a fare il punto su tutto quello che c'è da sapere riguardo a questa cosa e come bisogna comportarsi per appunto fare questa transizione senza nessun tipo di problema. E poi ci sono in arrivo date macroeconomiche molto importanti il PIL statunitense che come sapete andrà a influenzare le possibili politiche monetarie future perché Powell ha detto proprio nell'ultimo speech che ha tenuto ha detto che se l'economia si mostrerà sempre forte senza nessun tipo di problema potrebbe andare avanti anche a fare nuovi rialzi di tassi quindi teniamo sotto controllo e vediamo quando uscirà questo dato e inoltre non so se avete visto a proposito appunto di notizie positive adesso poi le approfondiamo una a una in questo video proprio ieri è uscita l'effettiva resa tra virgolette della SEC contro Ripple perché di fatto ha ritirato l'accusa, ha ritirato la causa che era aperta era stata inizialmente vinta da Ripple, si aspettava il suo ricorso insomma c'era tutta questa storia qui ieri è arrivata la notifica di ritiro della causa in questione questa è una grossa vittoria per Ripple ma non solo anche per il mondo cripto in generale infatti con buona probabilità l'opinione è che è ciò che ha scatenato di più quest'ultima leg up del giorno di oggi partiamo proprio dalla price action partiamo proprio da questa leg up andiamo a dare un'occhiata a come si pone da un punto di vista proprio dei livelli chiave che stavamo monitorando guardate in realtà è veramente un movimento da manuale perché dopo aver rotto questa struttura di bottom all'interno della parte inferiore del range perché macroscopicamente siamo sempre nel nostro grande range nel quale ci muoviamo ormai da marzo quindi da tanti mesi questo è un bel blocco di accumulazione se lo rompiamo a rialzo quindi è veramente un'area di prezzo importantissima da tenere sotto stretta sorveglianza e il range middle che è equivalente a questo vecchio high settimanale sui 28.000 vedete che ha fatto da resistenza per due volte con un po' di retrogusto rialzista che era quello che seguivamo negli ultimi giorni struttura di massimi e minimi crescenti sul breve che alla fine si è propagata vedete con la rottura proprio di questa stessa resistenza rottura data dalla presa di liquidità sopra ai 28.500 e chiusura sopra ai 28.000 vedete nel giornaliero della giornata della fake news tra l'altro viene strappo a un sorriso perché era una giornata molto anomala e è difficile capire quanto di vero c'è in un movimento che avviene appunto in una giornata di questo tipo dove il grosso della price action è scatenato proprio da una fake news poi smentita tra l'altro nel giro di pochi minuti tuttavia i giorni dopo c'è stato un follow up vedete positivo avevano detto attenzione al follow up che ci fa un po' capire nel momento in cui la turbolenza si va a calmare se i livelli vengono mantenuti oppure no in particolare la presa di questo livello qua era importante vederla mantenuta perché altrimenti se la fake news avesse riassorbito anche qua avremmo avuto un carico di offerta importante e un ritorno nella parte bassa del range quindi un indebolimento di fatto strutturale un rischio indebolimento strutturale perché poi l'abbiamo visto il segnale sarebbe stato comunque solo dato da un eventuale lower low quello che invece è accaduto vedete è un retest da manuale tac vedete nei due giorni dopo tra l'altro con volumi sostenuti quindi neanche uno di quei similbart dove i volumi si azzerano dopo il movimento volumi sostenuti un bel retest e un ulteriore leg up che sembra essere particolarmente viva nella giornata di oggi infatti sarà interessante vedere oggi è venerdì interessante vedere come chiuderà la settimana perché stiamo attaccando il livello più importante in assoluto ovvero l'origine dell'ultimo dump che si trova proprio qua nei 29.500 se riusciamo visto che questi sono livelli che hanno rilevanza su time frame settimanale soprattutto se riusciamo a chiudere la settimana lì sopra è un segno estremamente positivo perché è un segno che appunto abbiamo assorbito tutto questo movimento ribassista sapete qual è la cosa ancora più positiva? ve lo mostro subito se noi andiamo a paragonare il movimento di bitcoin facciamo pure il nuovo pannello così lo confrontiamo così con il movimento guardate della borsa americana quindi asset risk on il benchmark per gli asset risk on per lo stock market notiamo di fatto un'evidente controtendenza nell'ultimo periodo e lo stesso vale con la forza del dollaro guardate andiamo a vedere anche il dollaro che ovviamente si muove in controtendenza con gli asset risk on tendenzialmente ma guardate bitcoin si comporta in modo in modo forte nonostante appunto il dollaro sia particolarmente forte ne avevamo parlato un po' di video fa se vi ricordate che avevamo intitolato quel video le cose stanno cambiando perché solitamente avevamo un forte una forte correlazione di bitcoin con gli asset risk on in primis chiaramente l'azionario americano ecco adesso sembra che davvero le cose stiano cambiando soprattutto cavalcando la narrativa ovviamente dell'etf spot che sembra sempre più vicino addirittura in tanti parlano di entro la fine dell'anno ma al di là del quando avverrà o quando non avverrà la cosa importante è il se no? perché che sia entro fine anno o che sia a gennaio o che sia a novembre cambia veramente poco io se non ricordo male dovrei aver messo nei segnalibri di X fatemi un po' vedere tra l'altro c'è anche questa notizia che è una bomba ragazzi ci sono notizie veramente positive eccola qua il calendario definitivo dove abbiamo il nostro solito 10 di gennaio come prossima data ma secondo tanti ciò potrebbe non dover aspettare anche il 10 gennaio potremmo addirittura vederlo prima perché tutti i principali propositori di etf spot hanno aggiornato le loro domande il loro file che hanno mandato alla SEC aggiornato come con dei dettagli in più e questo fa pensare anzi fa cioè evidenzia lo palesa perché è così di fatto che c'è un dialogo come abbiamo già detto tra la SEC e i fund manager questo significa che loro stanno seguendo le direttive di quest'ultima per proporre nel modo corretto l'etf e quindi di fatto una volta finito questo dialogo chiaramente non si sa bene la data ma secondo tanti potrebbe essere già entro fine anno quindi parliamo di un paio di mesi finito questo dialogo ecco l'approvazione arriverà è sempre più vicina questo sembra e effettivamente anche la price action lo sta incorporando perché se la proposta vi ricordate è arrivata qua e inizialmente è stata subito prezzata estremamente bullish nelle settimane e mesi successivi è stato assorbito quell'entusiasmo chissà come mai magari il mercato non prezzava ancora un'alta probabilità di approvazione anzi magari era molto scettico tuttavia adesso vedete che sta ritornando e in particolare se dovessimo rompere a rialzo vedete questo range al di là di tutto che sia prima o dopo l'approvazione quest'ultimo ovviamente potrebbe fare da catalizzatore avremmo effettivamente una conferma si può addirittura dire di ritorno al bull market perché se guardiamo anche la struttura da un punto di vista macroscopico andiamo a varcare questa linea che è la linea che separa vedete la zona di top del bull market 2021-22 dalla zona di bottom dell'apice invece del bear market fino a fine 2022 con la capitolazione che è avvenuta a novembre in corrispondenza con il crollo di FTX che è ciò che ha scosso la maggior parte degli investitori e li ha buttati fuori di fatto dal mercato in preda allo sconforto recuperare quest'area è il segnale più forte in assoluto in particolare su time frame settimanale abbiamo visto sono i 35.000 e anche su time frame mensile no scusate meno sul settimanale sono i 32.000 questo livello qua sul mensile invece i 35.000 una volta recuperati questi due livelli abbiamo una propagazione totale del movimento riportandoci nell'area appunto superiore quindi questi sono i livelli da tenere sotto strettissima sorveglianza al momento quest'ultima leg up origina dai 28.000 quindi potremmo avere un inizio di invalidazione dell'attacco e della volontà di recupero dei 29.500 origine del dump quindi di ritornare all'attacco del range high in altre parole nel caso in cui vedete ritorniamo qua sotto abbiamo detto questo è il range middle scusate che qua col trackpad mi fa casino 28.000 questo è il range middle se ci torniamo sotto ovviamente è invalidato l'attacco al range high quindi questo è il primo segnale di eventuale debolezza invece chiaramente il bull case è la chiusura settimanale in quest'area come abbiamo visto assorbimento dell'ultima leg down e poi parte quindi l'attacco al range high e inizia a essere sul tavolo la propagazione che abbiamo detto poco fa quindi veramente siamo in un periodo storico di fondamentale importanza vietato vietato abbassare la guardia da un punto di vista di open interest abbiamo dunque dei dati abbastanza ovvi nel senso l'open interest è decollato di nuovo è ritornato addirittura a livelli superiori alla pre fake news guardate che che decollo che c'è stato in particolare in corrispondenza ovviamente della leg up stessa long e short sono sempre a favore degli short nonostante il movimento di oggi ne ha puniti un po' che si erano andati ad accumulare come avevamo visto nelle giornate precedenti tuttavia vedete qua c'è ancora il 30.000 di picco la candela di apertura dei massimi short era il 15 ottobre dove abbiamo avuto un picco sui 30.000 anche 31 quasi e quindi se andiamo a pescare da quelle parti lì probabilmente se ne puniscono altri e c'è la probabilità non da poco di uno squeeze e qua le cose si fanno veramente curiose perché andare a innescare degli squeeze in questa zona vicina a una resistenza sopra la quale c'è sicuramente altra liquidità pronta a scatenarsi potrebbe essere veramente un cocktail esplosivo e anche nel senso positivo ovviamente no? questo è una cosa da tenere sotto controllo i long sono ancora titubanti vedete qualcosa si è aperto ma poco rispetto agli short probabilmente proprio perché ci troviamo in una zona comunque di resistenza quindi bisogna essere un attimino cauti e vedere l'effettiva propagazione oppure no del movimento torniamo invece alle nostre notizie allora partiamo dal discorso Binance io prima vi faccio un piccolo inciso vi ricordo che è disponibile da un paio di settimane il nostro nuovo corso gratuito sulla storia di Bitcoin io vi lascio il link in descrizione per andarlo a seguire sulla nostra piattaforma di e-learning e vi consiglio di sfruttare magari questo weekend per recuperarvelo perché alla fine è facilmente digeribile e vi racconta tutta la storia di Bitcoin dalla preistoria in realtà quindi la tecnologia e i movimenti culturali e sociali che hanno portato alla nascita di Bitcoin e poi la sua storia dal 2008 al giorno d'oggi divisa halving per halving quindi ogni lezione è un quadriennio di halving di ogni ciclo e vedrete che scoprirete delle cose che non sapevate sono tante tante belle curiosità e nozioni interessanti su Bitcoin che penso chiunque dovrebbe sapere quindi ragazzi ve lo lascio vi lascio il link in descrizione ripeto è completamente gratuito con tanto di quiz finali e si guadagnano cippini quando torno tra l'altro vi dirò un nuovo bellissimo caso d'uso per i cippini che continuano la loro strada verso il diventare l'asset top in assoluto allora veniamo invece a Binance che sono un po' allora no questo è Ripple ne parliamo tra pochissimo allora 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 beh qui abbiamo la notizia sul ripristino dei bonifici SEPA innanzitutto che è quella positiva quindi come eravamo rimasti loro avevano tagliato i ponti con Paysafe che era il loro precedente provider di servizi fiat quindi con euro e quindi bonifici in entrate in uscita con versioni cripto euro e quant'altro ecco ora Paysafe è uscito come ben sapete ma nel frattempo erano alla ricerca come avevamo già anticipato di un nuovo provider effettivamente l'hanno trovato l'hanno integrato e quindi riattivano i servizi in euro come bisogna fare allora se avete ancora euro in pancia Paysafe perché li avevate prima sostanzialmente bisogna sbarazzarsene cosa vuol dire o prelevarli o convertirli in USDT bitcoin quello che volete voi e se avete meno di 5 euro che è il purtroppo cioè il livello minimo per fare un'operazione vi verranno convertiti automaticamente in USDT il giorno 24 ottobre perché purtroppo appunto il minimo di prelievo è 5 euro quindi fondamentalmente non ci si poteva fare nulla e una volta quindi che vi sbarazzate di tutti gli euro che avete in pancia Paysafe potete ritornare a utilizzare gli euro con il nuovo provider quindi è un po' come chiudere un capitolo e aprirne un altro questo è tutto quello che c'è da sapere e se non avevate mai usato euro con Paysafe potete utilizzarlo da subito e basta in realtà è tutto qui se volete un recappino qua nel tweet nel post che ho scritto ieri trovate tutto quello che c'è da sapere invece per una cosa che arriva una purtroppo se ne va e stiamo parlando della Binance Card la Binance Card abbandonerà gli utenti europei vedete dello spazio economico europeo il 20 dicembre per quale motivo di nuovo solito discorso il provider che se ne va in questo caso stiamo parlando di Contis che è un provider di carte cripto che ha deciso appunto di fare di sospendere i servizi agli utenti Binance questo cosa significa che a partire dal 20 di dicembre quindi tra due mesi esatti se le cose non cambiano se non ve anche qua c'è l'incognita se troveranno un altro provider oppure no non è ancora stato detto nulla quindi io non vi posso dire che lo stanno cercando perché non si sa io vi riporto ovviamente le notizie ufficiali e vi terrò chiaramente aggiornati appena so qualcosa ve lo dico a tal proposito seguitemi anche su Telegram che lì comunico in tempo reale vi lascio il link come sempre in descrizione per il momento non si sa nulla se non che verrà rimossa quindi questa è l'unica cosa che vi posso dire il 20 di dicembre ricordatevi che non funzionerà più da lì in poi la Binance Card quindi se avete abbonamenti a Prime Netflix Spotify eccetera addebitati sulla Binance Card ricordatevi di cambiare la carta appunto su Netflix eccetera eccetera perché altrimenti vi va in errore il pagamento non funzionerà più da lì in poi e se avete dei fondi sul wallet che non mi ricordo come si chiama wallet finanziamento insomma quello della carta potrete tranquillamente spostarli anche dopo e quindi insomma non è che perdete quello che avete lì sopra perché fortunatamente non sono movimenti unilaterali quindi di quello non c'è da preoccuparsi l'unica cosa ovviamente è di fare attenzione se avete delle spese ricorrenti sulla Binance Card spostatele prima perché altrimenti rischiate che il servizio vi venga interrotto e questo purtroppo è tutto ripeto vi terrò aggiornati se verrà comunicato l'integrazione con un altro provider o quant'altro nel mentre ahimè la notizia soltanto di interruzione del servizio tra due mesi nel mentre potrete continuare comunque a utilizzarla appunto fino al 20 dicembre 2023 e questo è un po' quanto dal punto di vista di Binance quindi tutto ciò che è accaduto con Binance ora veniamo alle ultime notizie positive fortunatamente quindi riguardo la SEC riguardo la Ripple soprattutto e una notizia che riguarda Tether che metterebbe a tacere tutti i detrattori se così sarà è una notizia veramente bomba questa secondo me tra le più importanti di tutte ma prima volevo menzionarvi farvi una menzione d'onore ovviamente al nostro sponsor Relay che è un metodo per acquistare Bitcoin acquistare e vendere Bitcoin in modo completamente sicuro perché non è custodial e senza KYC o meglio con KYC Lite se così lo vogliamo chiamare perché di fatto l'acquisto avviene tramite bonifico bancario oppure carta di credito o debito ma Relay non ti chiede di caricare documenti né ti chiede dati personali quindi ovviamente non è un movimento anonimo perché è un movimento con pagamento elettronico e quindi tracciato ma di fatto questo è enormemente più sicuro perché non devi caricare i tuoi dati su un exchange rischiando quindi dei data leak o qualsiasi altra cosa simile nel caso in cui vengono achierati sapete che sono cose all'ordine del giorno e come funziona? banalmente è un'applicazione che potete scaricare sia per iOS che per Android vi lascio il link in descrizione nello scaricarla e inizializzarla vi crea un wallet non custodial con la vostra seed phrase conservatela perché vi ricordo non custodial voi potete acquistare sia direttamente sul wallet che vi creare live ma anche sul vostro wallet privato quindi è una scelta totalmente vostra la cosa importante è che appunto non rimangono mai fondi a rischio perché non sono depositati da nessuna parte se non in un vostro wallet di conseguenza se domani fallisce rely voi non perdete i vostri bitcoin perché ripeto avete la seed phrase e avete la piena proprietà dei bitcoin stessi scegli il tuo importo scegli la frequenza perché puoi anche acquistare vedete con piano di acquisto ricorrente scegli il metodo di pagamento confermi e tac e qui è dove puoi mettere anche il wallet dove li vuoi ricevere se non vuoi riceverli direttamente sul wallet rely in alternativa puoi riceverli sul wallet rely e poi da lì inviarli se la cosa ti crea ti crea disagi o problemi e si può anche vendere ovviamente sempre con lo stesso modalità tu invii bitcoin e lui ti fa il bonifico le commissioni sono del 1-2% a seconda dell'operazione che si fa con un pagamento ricorrente un acquisto ricorrente e l'utilizzo di un codice referral si ottiene l'1% di fee che è il minimo e ovviamente è paragonabile tra l'altro ad altri servizi semplici inoltre qua hai il no kyc e il non custodial come plus se volete il mio codice referral è gateway scritto in maiuscolo come decrypto gateway ma senza decrypto quindi gateway e basta inseritelo vedete qua nell'invite code nel momento in cui fate il vostro acquisto e avrete il meno 25% sulle commissioni che andate a pagare che dire se vi interessa scaricarla vi lascio il link in descrizione è per ios e android grazie a rely per sponsorizzare i nostri contenuti ora veniamo in breve alle ultime notizie partiamo da quella che mi ha colpito di più che vi dicevo prima Peter ha affermato che vorrebbe iniziare a pubblicare le sue riserve in tempo reale a partire dall'anno prossimo e questo sarebbe veramente un qualcosa che metterebbe a tacere i detrattori perché? perché effettivamente non si può più dire e non hanno questo e non hanno il collaterale e così via ci sarebbero le prove quindi io auspico tantissimo che ciò avvenga perché Tether è sempre stata una delle cose che ha scatenato timore in tanti player interni ed esterni e quindi la trasparenza di un player così grande trasparenza insindacabile sarebbe un qualcosa di importantissimo proprio per costruire fiducia io spero che ciò avvenga appunto con la massima trasparenza e quindi in un metodo che è verificabile da tutti senza possibili obiezioni lo vedremo ma sicuramente questo è una notizia estremamente positiva Paolo Ordoino che è il nuovo CEO vi ricordate è stato promosso recentemente a CEO secondo me potrebbe veramente fare grandi cose nel progetto Tether che comunque è uno dei pilastri del mercato crypto lo sappiamo molto bene ormai la SEC ha ritirato le accuse a Ripple quindi vi ricordate il discorso del security mica security le vendite di un tipo vendite di un altro tipo dove appunto la SEC aveva fatto causa a Ripple dicendo che le vendite di token sia primaria che secondaria erano security poi il giudice Torres aveva dato ragione a Ripple dicendo che le vendite sul mercato secondario non sono security poi la SEC aveva detto che avrebbe fatto ricorso non finisce qui di qua di là di su di giù alla fine è arrivata la notifica effettiva di vedete voluntary dismissal quindi di fatto la SEC ha ritirato volontariamente le accuse questo secondo alcuni è una manovra furba tra virgolette da parte della SEC per evitare che un giudice gli dicesse nero su bianco alla fine al processo che questa cosa non è una security così cos'ha però comunque crea un precedente fortissimo dove la SEC è stata quasi costretta praticamente alla resa al tirarsi indietro ed è una cosa non da poco perché se Ripple di fatto non viene giudicato security che Ripple è comunque una delle più aziendalizzate come altcoin nel bene e nel male non vuole essere né una critica né niente ha una sua caratteristica tende alla centralizzazione tende all'aziendalizzazione e se Ripple appunto non viene valutata come security allora per le altre la tesi è ancora più debole per le altre non tutte ovviamente ma per buona parte delle altre mi viene in mente Ethereum e le year one vari diventa veramente difficile sostenere appunto questa tesi quindi grossa vittoria per Ripple e grossa vittoria per il mondo cripto in generale ultima cosa da sapere attenzione al 26 ottobre che sarà giovedì prossimo alle ore 8 e 30 quindi 14 e 30 italiane ci sarà il dato sul PIL statunitense la previsione è di forte crescita questo è quarter over quarter quindi crescita dal trimestre precedente attenzione ai dati perché potrebbero influenzare le possibili politiche monetarie future della SEC al momento abbiamo lato probabilità di ulteriori aumenti dei tassi aspettate che la andiamo a vedere vedete molto basse di nuovi aumenti ma se l'economia americana si rivelasse particolarmente forte e l'inflazione mostrasse ancora qualche spirito di risalita la possibilità di un ulteriore aumento non va esclusa quindi attenzione a questi dati macroeconomici bene direi che per oggi abbiamo fatto il punto su tutto attenzione adesso al grafico che è sempre la cosa più importante da seguire perché è quello che ci dà un po' un'idea che prezza tutto quanto agli scenari che abbiamo visto occhio a possibili assorbimenti sotto ai 28.000 che si ritorna insomma con più offerta nella parte inferiore o invece al bull case propagazione qua sopra la chiusura settimanale noi ci riaggiorniamo lunedì per l'appunto con la chiusura settimanale sarà un appuntamento da non perdere dovrei riuscirci vediamo perché lunedì è il mio ultimo giorno qua dovrei essere in viaggio ma magari un flash update lo tiriamo in ballo in qualche modo poi ci rivediamo mercoledì in live e ritorniamo alle nostre vecchie abitudini amici grazie per avermi seguito di nuovo vi auguro una buona serata e alla prossima